La Transnistria è una regione autonoma non riconosciuta situata nella parte orientale della Moldavia, lungo la riva sinistra del fiume Nistro. Le sue peculiarità e la posizione strategica la rendono un punto focale per la geopolitica dell'Europa orientale. La Transnistria è una terra dove si incontrano e si scontrano diverse culture e narrazioni storiche. Il paesaggio sociale riflette ancora l'atmosfera della guerra fredda, con simboli dell'epoca sovietica che risaltano nelle piazze e nelle principali città. La bandiera della Transnistria contiene ancora una falce in martello, emblema dell'epoca sovietica, a dimostrazione della profonda nostalgia per il passato sovietico e del rifiuto dell'integrazione con la Moldavia. Nel 1990, mentre l'Unione Sovietica iniziava a disgregarsi, la Transnistria si è autoproclamata Repubblica Moldava della Transnistria, dichiarandosi indipendente dalla Moldavia in risposta alle spinte nazionalistiche che crescevano a Chichinau. Il 1992 è stato un anno importante per la Transnistria. Il conflitto con la Moldavia, breve ma intenso, ha lasciato cicatrici profonde. Si stima che il conflitto abbia causato circa mille morti e decine di migliaia di sfollati. La guerra si concluse con un armistizio mediato dalla Russia, che si presentò come garante di una fragile pace. La presenza russa non fu solo però diplomatica. Mosca stanzionò truppe nella regione, ufficialmente con il ruolo di peacekeepers, ma di fatto come simbolo tangibile del potere russo. Questo ha permesso alla Transnistria di rimanere uno stato autonomo de facto, benché mai riconosciuto a livello internazionale. La Transnistria è oggi una reliquia sovietica, una regione in cui il tempo sembra essersi fermato. Le statue di Lenin sorvegliano ancora le piazze di Tiraspol e la lingua russa è predominante nelle istituzioni e nelle comunicazioni quotidiane. Con una popolazione di circa mezzo milione di persone, tra cui il 30% Moldavi, il 28% Russi e il 22% Ucraini, la Transnistria ha sempre guardato a Mosca come il suo principale alleato e protettore. La presenza di circa 1500 soldati russi e il deposito di armi di Kolbasna, uno dei più grandi dell'Europa orientale, garantiscono protezione nei confronti della Moldova e rappresentano un elemento di influenza fondamentale per la Russia. Il deposito di Kolbasna è cruciale per comprendere la dinamica del conflitto fra Moldova e Transnistria. Questo arsenale, uno dei più grandi dell'ex Unione Sovietica, contiene tra le 20.000 e 40.000 tonnellate di munizioni e armi risalenti al periodo sovietico, rappresentando una minaccia per la sicurezza regionale, soprattutto viste le limitate capacità difensive della Moldavia. Situato vicino al confine con l'Ucraina, è sorvegliato dalle truppe russe, che giustificano la loro presenza come necessaria per la sicurezza dell'arsenale. Tuttavia, la realtà è che la Russia utilizza questo deposito come leva militare e politica per mantenere la sua influenza nella regione e impedire a qualsiasi tentativo moldavo di riprendere il controllo della Transnistria. L'arsenale di Kolbasna contiene munizioni che risalgono ai decenni della guerra fredda e che, secondo molti esperti, potrebbero non essere più stabili, il che destra preoccupazione per eventuali rischi associate alla sicurezza del deposito, la cui deflagrazione provocherebbe un'esplosione estremamente potente. Inoltre, l'uso stesso degli strumenti presenti nel deposito potrebbe non essere più possibile per l'anzianità delle attrezzature. Anche per questo motivo, la Moldavia ha chiesto ripetutamente la messa in sicurezza del deposito e la ritirata delle truppe russe, richiesta non accolta da Mosca. Nonostante la mancanza di riconoscimento ufficiale, la Transnistria ha sviluppato istituzioni proprie. Il governo della Transnistria è strutturato in modo simile a quello di molti stati sovrani, con un presidente che esercita un notevole potere esecutivo e un parlamento unicamerale, chiamato Consiglio Supremo, che legifera per la regione. Tuttavia, il governo è fortemente influenzato dalla Russia, che fornisce sostegno finanziario e politico garantendo la stabilità alla leadership locale. Come già detto, la regione dipende in larga misura dal sostegno russo, sia economico che politico. La sua economia è debole e strettamente legata alla Russia, con poche risorse locali e una produzione industriale che risale al periodo sovietico. L'industria principale è quella dell'acciaio, con l'impianto di Moldovan Steelworks, uno dei maggiori produttori della regione, che rappresenta una delle principali fonti di occupazione e di entrate. Anche il settore energetico è molto importante, grazie alla presenza di una grande centrale elettrica che fornisce energia non solo alla Transnistria, ma anche alla Moldavia. Questa dipendenza energetica è una delle leve principali con cui la Transnistria esercita pressione su Chichinau. Nel febbraio 2024 la Russia ha intensificato i suoi sforzi per influenzare la Moldavia, utilizzando sia la Transnistria sia la Gagautzia, una regione autonoma del sud della Moldova, come leve strategiche per destabilizzare ulteriormente la situazione politica del paese. Durante un congresso tenuto in Transnistria, i deputati locali hanno richiesto ufficialmente maggiore protezione da parte della Russia contro le pressioni della Moldova. La Gagautzia, una regione autonoma della Moldova, abitata in maggioranza da una popolazione di origine turca ma culturalmente molto vicina alla Russia, è stata anch'essa oggetto di attenzione da parte del Cremlino. Putin ha utilizzato la Gagautzia come strumento per fare pressione sulla leadership Moldava, incoraggiando sentimenti anti-europei e fomentando il separatismo. I leader Gagautzi hanno recentemente chiesto l'aiuto russo contro le presunte pressioni di Kijinau per limitare l'autonomia della regione. Nel discorso alla Federazione Russa del febbraio 2024, Putin ha evitato di menzionare direttamente la Moldova, ma ha ribadito la necessità di creare una nuova cornice di sicurezza per l'Eurasia, segnale interpretato da molti analisti come un supporto implicito alle entità separatiste come la Transnistria e la Gagautzia. La Russia sembra intenzionata a sfruttare queste regioni separatiste per mantenere uno stato di tensione costante ai confini con l'Unione Europea, impedendo alla Moldavia di avanzare nel suo percorso di integrazione europea.